Sono Leonardo Belloni, candidato all'elezione del 6-7 giugno per il Partito Democratico, nelle liste del Comune di Perugia. Lavoro in fabbrica, sono indipendente della Perugina e svolgo attività sindacale. Se verrò eletto, intendo proseguire il mio impegno a difesa del mondo del lavoro, del precariato, dei lavoratori delle aziende private e artigiane e dei pensionati. Ho scelto di candidarmi per mettere a disposizione la mia esperienza maturata in fabbrica, in particolare sui temi della sicurezza sul lavoro, sul problema salariale e occupazionale per restituire dignità ai lavoratori. Il 6 e 7 giugno, accanto alla scelta del candidato sindaco Vladimiro Boccali, esprimi la tua preferenza. Scrivi Belloni!